Devo rilevare che purtroppo in Italia si è persa un po' di vista la scena globalizzata nella quale ci troviamo. Per esempio io se offendo il capo della Repubblica da una pagina Facebook italiana rischio delle sanzioni, se però lo offendo in italiano da una pagina che ho aperto in Albania, in Slovenia, non succede niente. Se carico un filmato erotico su YouTube mi chiudono l'account, se lo carico su YouPorn magari faccio un milione di visionamenti e così via. Quindi c'è qualche cosa che non va, evidente. Noi non possiamo discutere dell'applicazione di un eventuale disegno di legge che si tramuterà in legge su scala nazionale perché è comunque un'azione assolutamente parziale. Allora permettetemi di fare un po' una carrellata, alziamo l'osservatorio. Nel 1995 alle Nazioni Unite il problema si è posto da subito. Dobbiamo regolamentare il web, dobbiamo capire qual è il livello di libertà da concedere, qual è il controllo, chi, perché, come e così via. Dopo dieci anni, nel 2005, Kofi Annan era molto attivo e volle affidare alla International Telecommunication Union di Ginevra, che è un'agenzia dell'ONU, il ruolo di convocare delle assemblee internazionali che si definiscono International Governance Forum. In questo momento ce n'è uno in corso a Ginevra, ma non c'è una riga sui giornali, non si sa. Quindi sono dodici anni che tutti i rappresentanti, tutti i soggetti attivi della comunità internazionale si incontrano con regolarità e discutono le questioni che a noi ci stanno preoccupando. Che cosa è successo però in questi forum, fora al plurale? Che tra i soggetti attivi inevitabilmente ci mancherebbe purtroppo per un verso, meno male dall'altro, ci sono le cosiddette aziende, le corporation, cioè sia le corporation commerciali che quelle tecnologiche. Queste corporation e anche il governo degli Stati Uniti, non ama il clima con il quale si organizza il consenso per tradizione Nazioni Unite, cioè non ama il voto dei governi, non ama la dominante governativa. Quindi che cosa ha imposto a questa assemblea? Ha imposto di utilizzare, e questo è molto importante, io vi sollecito a riflettere su questo perché è un cambio di prospettiva epocale, ha imposto una cosa che viene definita sistema multi-stakeholders. Non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare, ma insomma noi siamo qua in un'aula del Senato, io mi rendo conto che questo sistema che peraltro va avanti da anni, è per noi una cosa ignota, invece è fondamentale per capire dove ci stiamo avventurando. Il multi-stakeholder, gli stakeholders sono gli aventi diritti, i portatori di diritti, per cui si considerano aventi tutti quanti lo stesso peso, la stessa dignità quando si siedono intorno al tavolo. Chi sono? Sono i governi, le aziende, le accademie, perché? Perché le accademie posseggono dei brevetti fondamentali per lo sviluppo del web e finalmente, meno male, la società civile. Salutiamo il senatore Vincenzo Vita che ci è venuto a trovare, salve Vincenzo. Questi stakeholders, quando si mettono a seduti, sono tenuti a individuare delle linee di indirizzo. Però che succede? Che gli interessi dei governi e dei militari, perché noi non dobbiamo dimenticare che in questa storia c'è una componente militare, iniziale e che poi si è conclamata, nel senso che i servizi hanno capito, diversi servizi, poi ne parliamo, comunque hanno visto che grazie al web, grazie ai big data, nasceva anche per loro una nuova era. Quindi noi abbiamo un conflitto di interessi tra i governi democratici, la loro sezione militare e intelligence, le corporation commerciali, le corporation di natura più telefonica e finalmente la società civile. Solo che la società civile per partecipare a questi convegni non c'è neanche i soldi. E alla fine vanno a questi convegni internazionali sempre gli stessi che sono delle multinazionali di società civile finanziate da alcuni potentati, lobbisti occulti. Se noi vediamo l'azione di gente come Save the Children o il WWF o la stessa Greenpeace e così via vediamo che dietro c'è una mano che insomma conferisce loro la rappresentanza affinché si raggiunga un equilibrio che però è compatibile con una certa visione liberista. No, ecco, allora questo accade al forum della governance di internet. Per cui in 12 anni non si è ottenuto nulla se non il cosiddetto mantenimento del dialogo che sembra essere il bene più prezioso nel dibattito che riguarda internet. E c'è una percentuale, diciamo di verità, perché se si spezza il dialogo si spezza la rete e si fa una rete cinese, una rete araba, una rete occidentale, una rete forse anche russa e questo ovviamente non si vuole, non lo vogliamo. Stante questa scena internazionale arriviamo all'Europa. In Europa noi abbiamo visto le istituzioni che dovevano organizzare delle norme per regolare il web sono apparse perlomeno distratte. Cioè quello che hanno fatto è stata l'agevolazione dell'insediamento, dell'arradicamento in alcuni territori fiscalmente agevolati dei giganti del web. Tutti i giganti del web, i cosiddetti over the top, o stanno in Irlanda o stanno in Lussemburgo e non pagano le tasse. Sì, quelli che stanno in Delaware non stanno in Europa. Io ho detto in Europa. Assolutamente sì signora, io non conosco il suo nome ma sono assolutamente d'accordo. Soltanto io stavo parlando dell'Europa, che poi le case madri siano in Delaware. Io lo so, se vogliamo dirlo anche agli altri glielo diciamo. Diciamoglielo. Allora, non solo queste corporation del web sono radicate in Irlanda, Lussemburgo e Channel Islands e altri paradisi, tra virgolette paradisi, insomma. Malta è molto attiva negli ultimi tempi, sta recuperando molte posizioni. ma queste corporation poi fanno una brutta carambola con le case madri del Delaware. Peraltro però in Delaware, quelle di Delaware regola solamente la fiscalità dei proventi raccolti all'estero, cioè nonostante siano in Delaware le corporation rispetto ai fatturati prodotti in America pagano le tasse regolarmente. Vabbè, andiamo avanti però. Quando l'Europa si accorta di questo, ha detto, ah, dobbiamo correre ai ripari, ma soprattutto l'Europa a un certo momento, a causa delle ultime vicende in Francia e così via, in altre località, si accorta che nel web succedevano delle cose molto losche e violente. Quindi ha detto, dobbiamo fare qualcosa, ma non siamo arrivati ad una direttiva, non esiste un complesso di norme che vengono proposte dagli europei ai paesi europei. In questa vicenda si inquadra il DDL Scalfa, Gambaro, Gambaro. Perché? Perché noi abbiamo orecchiato che la Gambaro il 25 gennaio è transitata dove? Al Consiglio d'Europa. Ma innanzitutto il Consiglio d'Europa non è il Consiglio europeo. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale inventata nel 1950 che è un forum dove ci si incontra. Lei è andata lì e ha presentato il suo rapporto che io ho letto in 89 punti dove si dicevano tante cose anche condivisibili per esempio a proposito del ruolo degli over the top. Poi però, forte di questo consenso ottenuto, è tornata in Italia e due settimane dopo al Senato presenta un DDL che non ha niente a che vedere con quello che c'è scritto nel suo rapporto. Evidentemente il DDL l'ha scritto qualcun altro e questo sarà da appurare. Oppure ha una doppia personalità. Lo conosciamo, il DDL, qualcuno l'avrà letto. Comunque è fortemente orientato, insomma sembra scritto da sacerdoti della verità, della verità di Stato. Cioè è una semplificazione estrema dice tu sei cattivo, noi siamo buoni, noi che siamo buoni decidiamo le pene che ti dobbiamo infliggere per la tua cattiveria, qua, 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 qua. Perché non c'è dibattito, è così. Però insomma molti altri parleranno di questo. Andiamo avanti. Quello che non compare nel DDL è stranamente il ruolo degli over the top. Non vengono menzionati. Mai. E qua bisogna dire che gli europei si stanno comportando ognuno in maniera diversa. Giulietto accennava al fatto che i francesi hanno affidato ad alcune testate prestigiose. Cioè c'è Liberation che si è messo a fare il cane da guardia. È una stranezza. Le monde si è messo a fare il cane da guardia. Questo Consiglio d'Europa, probabilmente facendo da PV ad altre assemblee che hanno facoltà, che cosa ha detto? Ha detto ai governi, non l'ha detto direttamente, ma l'indicazione è risolvete la questione delle fake news e delle bufale come utilizzando le norme esistenti e ampliandole. Questa è l'indicazione. Va bene. Adesso non posso però non spiegare i tempi. Io sono molto fuori con i tempi, è vero? No, no, va bene. Vai, finisci, finisci. Ah, non posso, non, diciamo, secondo me, come sempre per completare la panoramica internazionale, qual è stato il ruolo dei cosiddetti over the top? Tanti. Cioè hanno loro l'alleanza tra... È stato ampiamente dimostrato che questi signori Google, Yahoo, Facebook, YouTube e così via in ottemperanza al Patriot Act devono fornire i big data ai servizi di intelligenza americani. Secondo alcune fonti inevitabilmente vengono serviti, vengono forniti a tutti. Quindi, al dunque, costoro, queste grandi corporation hanno una sola, una grande ragione di essere. fornire big data per realizzare controllo, per realizzare, diciamo, riduzione di privacy e così via e fornire gli stessi data ai pubblicitari. Lasciamo perdere il discorso sulle intelligenze, però vediamo che cosa è successo nel mercato pubblicitario, cioè negli ultimi... Dal 2009, nel 2009 ci fu un incontro internazionale della International Advertising Association in cui si disse noi che siamo coloro i quali tengono in vita i media, da oggi in poi cominciamo a rattrappire i nostri investimenti. Perché? Soprattutto nei confronti di quei media che appaiono skeptical, un po' scettici nei confronti del consumo e ovviamente tutto quello che noi recuperiamo lo diamo al web. Questo ha consentito a Google, a Facebook e così via di inondare il web di pubblicità a bassissimo prezzo rispetto a quella che veniva pagata prima dai media. E uno degli effetti mostruosi è che quella sudditanza latente del media mainstream che c'è sempre stata nei confronti della pubblicità si è rafforzata al punto che attualmente noi non abbiamo più la possibilità di concepire un editore di giornale indipendente perché un editore di giornale indipendente dovrebbe vivere in un altro modo nel senso che dovendo dipendere dalla pubblicità la sua linea editoriale è condizionata dalla pubblicità cioè i direttori del marketing dei giornali contano molto di più dei direttori della tradizione editoriale. questo è un effetto tutto questo è stato ottenuto attraverso i contenuti generati dagli utenti ok? cioè in passato questa sequenza era insomma non si pronunciava molto in Italia user generated content contenuti generati dagli utenti che cosa sono? sono tutte quelle cose che noi troviamo su facebook su youtube su instagram su twitter e anche i blogger sono i blogs sono contenuti generati dagli utenti quando le mega corporation si sono concentrati su questi contenuti hanno visto che c'era un fenomeno che noi non abbiamo mai analizzato bene i giuristi non l'hanno analizzato gli economisti non l'hanno capito i giornalisti ne hanno scritto così in passant è un fenomeno innovativo di proporzioni bibliche cioè questo ha scardinato le comunicazioni di massa ha scardinato la politica ha scardinato il costume ed in una prima fase è andato benissimo soltanto che poi che cosa è successo? siccome il web giustamente amplifica qualsiasi cosa il web ha amplificato quella porzione di antagonismo quella porzione di tumultuosa passionalità civile di non conformismo che non si poteva esprimere prima e questa cosa si sta manifestando si è manifestata probabilmente molto con la Brexit probabilmente molto con Trump probabilmente molto con il no al referendum del cambio della Costituzione si sta per manifestare in Francia in Germania e così via quindi è inevitabile che i governi siano molto 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 preoccupati e dovranno correre ai ripari aspettiamoci come diceva Giulietto delle cose energiche da parte dei governi locali poi non lo so bisognerà prendere una posizione e vedere dove andare dove posizionare i punti di resistenza sia rispetto ai governi locali o rispetto al governo multinazionale perché lì è ancora più complicata la faccenda vi ringrazio buon lavoro a tutti